Cecil Chiang risponde da Rimini a Roberto Calderoli, l'esponente leghista che ha accusato il padre dell'ex ministro dell'integrazione di avergli fatto una macumba in Africa. Io gli chiedo di fare di persona un viaggio direttamente nei luoghi della macumba. Magari vede con i propri occhi e torna magari cambiato, non lo so. E non sarebbe una cattiva idea. Io non credo alla macumba. Nei giorni scorsi Calderoli aveva postato sui social network la foto di un serpente trovato nella sua cucina, come prova del maleficio subito. Comunque solidarietà per tutti i guai che ha avuto, ma che queste possano essere associate alla macumba, mi sembra di vivere un film di Totò, un film comico, ma io non lo so come ci vedono dall'estero su tutto questo. La commedia all'italiana sarebbe veramente un film da non perdere.